L'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, il magistrato Marisa Scavo, il comandante della Guardia di Finanza di Catania, Antonino Raimondo, il comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla, il nostro direttore Michele Cucuzza e le colleghe Carmela Marino e Carla Previter hanno ricevuto a Catania il premio Chimera d'Argento, che da 25 anni premia le eccellenze catanesi. L'Arcivescovo di Catania Luigi Renna, il magistrato Marisa Scavo, il comandante della Guardia di Finanza di Catania Antonino Raimondo, il comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla, il nostro direttore Michele Cucuzza e le colleghe Carmela Marino e Carla Previter hanno ricevuto tra gli altri a Catania il premio Chimera d'Argento, che da 25 anni premia le eccellenze catanesi.